Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Fifi Lì. Sulla strada provinciale 16 Chianti-Valdarno siamo nel territorio della città metropolitana di Firenze, senso unico alternato per il restringimento della carreggiata al chilometro 0,600 nel comune di Greven-Chianti fino al 31 dicembre. Per la viabilità cittadina a Firenze sul ponte Vespucci lavori di riqualificazione dell'impalcato e della pila destra, arriva anche la pista ciclabile. Ed è tutto, buon viaggio!